5 lunghissime ore, tanto è durato l'incidente probatorio di fronte al GIP Fabio Lombardo, nel corso del quale la 27enne cortonese che aveva denunciato il marito, ha raccontato quanto raccontato sino ad oggi, ovvero di essere stata prima aggredita e poi violentata dal 37enne nella notte tra il 23 e il 24 maggio scorsi. Una vicenda tanto delicata quanto controversa, ripercorsa nella lunghissima deposizione della giovane. Secondo l'accusa, il marito quella notte, forse spinto dalla celosia, avrebbe seguito la moglie dalla quale si stava separando. La donna quella notte si trovava in auto con un amico quando, sempre secondo il racconto della giovane, il 37enne si sarebbe prima scagliato contro la macchina e poi l'avrebbe trascinata fuori con forza, portandola all'interno della casa dove si sarebbe consumata la violenza sessuale. Il racconto della donna adesso ha assunto il valore di prova e in caso di procedimento ordinario le sue parole potranno essere considerate come oggettivamente valide. L'episodio in un primo momento era stato denunciato dall'amico della 27enne e poi dalla stessa giovane che aveva richiesto quella notte l'intervento dei carabinieri. I militari, una volta arrivati a casa dell'uomo nel corso della perquisizione, trovarono 93 fucili, una penna pistola e due mazze da baseball per lui scattarono le manette. La difesa dell'uomo, sostenuta dall'avvocato Domenico Nucci, adesso ha chiesto una misura cautelare meno afflittiva per il suo assistito, ancora recluso nel carcere di Terni. Il PM Chiara Pistolesi ha espresso parere negativo, il GIP Fabio Lombardo si pronuncerà nei prossimi giorni. Il 37enne, che si è sempre dichiarato innocente e ha sempre parlato di un rapporto consenziente, è accusato di atti sessuali aggravati, lesioni, danneggiamenti e minacce ai danni della moglie.